Benvenuti da Naro Sensei Puntata dedicata ai firewall Non ai soliti per Windows ma bensì per Android Per chi non lo sapesse il 99% dei firewall che trovate su Google Play, Play Store o quello che volete è riservato solo ai telefoni con il root modificato ovvero dovete andare a rovinare la vostra garanzia del vostro dispositivo perdere la garanzia quindi e manomettere il telefono in modo da poter installare programmi con permessi speciali Ovviamente non è il massimo specie per tutti quanti perché ci sono tante persone che magari non sono proprio all'altezza di fare questa cosa così magica Perciò i programmi realmente no root penso che funzionino decentemente siano due Tutti gli youtuber chiunque conosciate potrà sicuramente parlarvi di NetGuard è il più famoso dei firewall ok bellissime recensioni, un sacco di impostazioni potete fare tutto quello che volete eccetera eccetera però come firewall è un po' macchinoso specie per chi non ha dimestichezza con questo genere di applicazione e in più consuma parecchia batteria io vi consiglio un firewall che non vi consiglierà mai nessuno perché nessuno lo conosce ed è Brave DNS infatti cercare come Brave Firewall o altro non troverete mai niente fa parte del gruppo DNS ma nonostante tutto è un firewall e senza il permesso dei root ok quindi utilizzabile in qualsiasi dispositivo senza bisogno di particolari cose come vedete questa è una versione oserei dire quasi beta perché non è in beta ma è appena fuori dalla beta c'è anche il sito ufficiale se volete basta andare su www.bravedns.com e qua vi spiega un po' di cose innanzitutto è open source e gratis ok quindi non ha nessuna possibilità che qualcuno faccia movimenti strani che vi spiega eccetera eccetera consuma poca corrente, batteria, volt, ampere, quello che volete e è un'app che fa il doppio funzione in cosa consiste? innanzitutto potete accenderla e spegnerla semplicemente premendo stop quindi se avete un collegamento veloce dovete fare qualcosa la accendete non vi serve più, la spegnete io la utilizzo ad esempio per qualche gioco per qualche applicazione in cui mi vengono fuori le pubblicità si preme e via ci sono due filtri praticamente da personalizzare si può far partire come DNS come firewall o come firewall più DNS penso che non sia necessario spiegare cos'è un firewall e cos'è un DNS perché ne ho parlato a IOSA ok e come vedete è molto molto semplice è un'app con tre impostazioni niente di che firewall potete impostare il firewall per tutte le app per le app tipo in whitelist eccetera eccetera DNS ne potete selezionare due o tre tra cui DNS di Cloudflare classico quello là che blocca il malware o quello là filtro famiglia di cui io ho già parlato niente in pratica voi selezionate cosa fare e potete in tempo reale con un semplice clic far partire il firewall o il DNS o entrambi non consuma tanta batteria come ripeto e per me è il migliore in assoluto perché come impostazioni ripeto è veramente una figata fotonica ha tre tasti tre robette da fare basta fine è una bomba provatelo e fatemi sapere secondo me potrebbe veramente diventare il concorrente numero uno di Netward una cosa da sottolineare non ha niente a che fare con Brave Browser ok quindi si chiama così ma non c'entra assolutamente niente e basta quindi potete oltre che fare il monitoraggio anche bloccare contenuti trackers malware eccetera grazie ai DNS tutto là penso che non ci sia altro da dire perché appunto è proprio troppo semplice come come programma quindi installatelo fatemi sapere cosa ne pensate e per dubbi consiglio o altro resto sempre a disposizione guardatevi gli altri miei video iscrivetevi al canale e alla prossima puntata bye bye ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti